Uomini e donne La coppia si era conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, dove lui correva la stagione 2012-2013 ricopriva il ruolo di tronista Un amore consolidato dalla nascita del piccolo Brando, prossimo a spegnere quattro candeline già a suo modo star dei web con 15.000 follower sul proprio profilo Instagram e dalla volontà di convolare presto a nozze La rivista specifica che non si sa ancora se si tratta di un maschietto o di una femminuccia, ma quel che è certo è che i due stanno allargando la famiglia Negli anni Eugenio e Francesca sono più volte tornati nel programma che li ha fatti incontrare per aggiornare il pubblico sull'andamento della loro relazione, si tratta di una delle coppie più longeve uscite da uomini e donne A. Dimostrazione che ogni tanto anche davanti alle telecamere può nascere un sentimento vero, profondo e duraturo, lontano da meri interessi autopromozionali e dal divisibilità che anima invece molti dei giovanissimi protagonisti degli ultimi anni Musica 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 Grazie per la visione!